Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui è un veloxorio, sono qui ragazzi per portarvi un nuovo sniping live su world war 2 Lo so ve ne sto portando un sacco a sto periodo, cioè un sacco, ve ne sto portando Ma il motivo è semplicemente che sto giocando molto di più con lo sniper di mio, cioè ho di fuori anche dei video Quando vado in pubblica ciò che faccio è giocare molto spesso con lo sniper, ecco, cioè è una cosa che mi rilassa veramente un sacco Quindi lo sto facendo tantissimo, bella la mia squadra, sono proprio fiero di questo classico, come si può dire, smistamento dei giocatori all'interno di world war 2 Che come al solito equilibra perfettamente le squadre, abbiamo nella mia squadra un livello 37, un 19, un 11, 41, un 33, l'unico prestigiato sono io Dall'altra parte invece tre persone che hanno prestigiato e vabbè altri che non hanno fatto, però voglio dire, perché questo equilibrio di merda Vabbè sti cazzi, facciamo finta che non sia successo nulla Qua in teoria potrei vedere i tipi che... no, chi mi ha ferito? Cos'è che mi ha sparato, raga, il tipo? Ah, è lì Mori Cazzo ce l'ho sotto? Minchia, li vedo belli aggressivi sti avversari, raga Guarda che cazzo stanno facendo, in un attimo stanno prendendo A Vabbè, è un coioncello che si è lanciato a caso, secondo me non è uno... uno particolarmente pericoloso No raga, era un collaterale quello, lo sapevo che mi pushava No raga, vi giuro, ci avrei scommesso tutto che questo mi avrebbe ci allenato Questi sono molto ignoranti, ve lo dico, li ho già identificati, vedremo se avrò ragione durante la partita Sto facendo il giro da dietro Poi me ne vado Muori Minchia ragazzi Questi sono molto ignoranti, ve lo inizio a dire Preparatevi perché sarà una parità di urla questa cosa, eh Se per me è tipo quelli che corrono a caso continuamente e tirano mille granate Gli ho già individuati, sì qua Pigliano Baker, da dove? Vedrai che è lì Oddio, collaterale! Cos? Ma... che fai, oh? Mamma mia che culo, ho fatto un collaterale sparando a caso, ragazzi Ok, arrivi da qui, no Ok Certo che anch'io giocare sta mappa col cecchino mi voglio proprio veramente male, ragazzi Certe volte proprio me le cerco le parete di merda Eh, dove cazzo sono i nemici? Qua No Se mi fosse entrato quel no scoop sarebbe stata una bella cosa, ma A quanto pare no, non può succedere Non so dove andare, raga Non stanza la merda questa situazione Pigliano pure B Mori, non è l'unico, l'altro secondo me è qui dietro, lo sapevo Tanto alla fine in questa cazzo di bandiera si mettono sempre negli stessi punti Quindi non è che devi avere chissà quale grande ingegno Non riesco a ammazzarlo Questo muore Godo, cazzo che ne sono uscito vivo da questa situazione impossibile Ok No, no, bombardamento no Ho paura qua, qua secondo me c'è qualcuno Lo sapevo che ci sarebbe stato uno Anche qua c'è gente Non ho chiuto ragazzi No, quello col cecchino Grande Leggi Astu Ok Qua c'è qualcuno No Non so dove andare Dai Dai, minchia Queste cose ve lo giuro raga Mi danno un fastidio quando mi trovo in trappola e devo regalare le kill alla gente Ma proprio sono morto Ok Spigliano C Ma tanto qua c'è qualcuno per forza Per forza proprio E piglia me, stava sparando all'altro Guarda che figlio di Guarda, 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 guarda No, vabbè Assurdo Andiamo qua, andiamo qua Andiamo qui Proviamo a beccare qualche nemico Non riesco a trovare situazioni favorevoli raga C'è Diciamo che anch'io me le cerco, ripeto A giocare queste mappe del cazzo Però Oh, cioè Non è che voglio stare lì a cercarmi le mappe giuste per giocare con il cecchino Io voglio giocare, basta Abbiamo Siamo sotto tripla cattura Non vorrei dire ragazzi Ma non è una bella cosa solitamente quando succede Infatti vedi che i nemici sono dietro le mie spasano ovunque Mannaggia Sono quello con più kill Col cecchino in point duoc Questo lo dice molto lunga su La mia squadra Questo Come cazzo fa a uccidermi uno che cammina così Cioè Allora, saliamo qui Mori Un altro qua Sì Che sta saltando a fare? Mori Minchia Tom Tom ragazzi Un incubo Mi ammazza continuamente Quello Quinto prestigio Non so che prestigio è quello Mori Oh god Basta Con ste granate di me Oddio Grande Sono morto Va bene Oh 24 kill in questo primo side Ragazzi Con 10 morti Non sono male Ecco Diciamo che Io ve l'ho detto Cioè sarei morto un sacco di volte in sta mapa Ma è inevitabile Non ho proprio un modo Vediamo la clip Eh l'ho fatta ora sta kill Sta clip qua Ehi Bella Mi è piaciuta Ho anche ammazzato l'ultimo Tutto stordito Non so come Non sto giocando male Secondo me raga Però c'è sempre il certo discorso Diciamo che Per fare delle partite proprio spettacolari col cecchino Devi avere culo a beccare la lobby proprio giusta Dove non fanno i pezzi di merda Dove non ti challengano da vicino Dove hai una squadra equilibrata Tutto ciò Tutto ciò non è successo in sta lobby In sta partita Quindi Purtroppo mi piglio quello che Che Dio mi ha dato Insomma Mori Mori No Né niente Se bimpiava anche questa Era una triple feed Ok Scialla Eh Andiamo qui Tanto loro rasponeranno In zona di A Quindi probabilmente Ne ho uno dietro Sì c'è un po' Mori Ma è nemico l'artiglieria No alleata Alleati Aiuto aiuto È morto No è viva ancora questo tipo Minchia Dove vado raga Era proprio fondamentale Tirare sta cazzo di artiglieria Che non capisco nulla Allora pure il nemico Cioè ragazzi Non è possibile Basta Basta Lasciatemi giocare Senza rottura di minchia Era una bella partita Cioè Dovremmo anche pigliare una bandiera Se no qua dura un attimo Il match Andiamo qua Che devo fare Che cozzo devo fare Pigliamo Vado a pigliare Ah Ci provo Ma col cecchino come faccio A pigliare una bandiera Ragazzi C'è un nemico Sì Mori Ragazzi Vi scongiuro Pigliate una bandiera Non riesco a prenderlo Cioè paradossalmente Non prendo mai quelli di spalle Ma riesco a prendere Quelli che mi sparano È una cosa assurda Veramente Andiamo qua Vorrei tanto Riuscire a prendere una bandiera Ma Neanche ci provo Sinceramente Qua Nessuno Ragazzi Scongiuro Pigliate B Sono nel bunker Non so dove sono i nemici Vai Pigliate B Bravo Davi Vedi Così si fa Questi secondo me Arrivano tutti da lì ora Lo sapevo Lo sapevo Qua Un altro No Cazzo Era mio Ok A Fatti avanti Proprio A Cazzo Manco il tempo di abbassare Un attimo Che ci è già sbucato No raga No Siamo sotto Tripla cattura Io ci sto provando A prendere le bandiere Ma Ci ho provato In realtà una volta Però Insomma Ci ho messo In una buona volontà Ma Devono aiutarmi gli alleati Marker Mori Vi prego Qualcuno mi aiuti Pigliate una bandiera Come faccio A uccidere sto Dai Oddio 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 L'artiglieria Mi ha tirato Tom 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 Ai 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 Bravi ragazzi Spiate B Ottima pick Ottima scelta C'è qualcun altro qua? Poi io sto qui in aspo Un killare Tanto questi ora saranno Incazzati che vogliono Difendere la loro bandiera No? Perché Ma questo è un Ma questo cos'è raga? È un bot Non può essere un player Io mi muovo così Avanti e indietro Madonna Basta Non la prendo più Quella bandiera di merda Cioè Non è possibile Ci stanno scopando Sti pezzi di merda Andiamo qua Paracadutisti Nemici No vabbè ragazzi Rip Proprio Non ho possibilità Di salvezza Guarda il paracadutista Che viene a uccidermi No Speriamo finisca presto St'agonia Tornato Godo Cazzo No Catturano Baker Una sega Bravi alleati Bravi No 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 Non la pigliate B Arrivo io a salvarvi A salvarla E uno dietro Mamma mia Ho sparato senza nemmeno vedere Che cazzo succede? Fatemi caricare Ok Se prendessimo anche A Sarebbe il top Ma non la prenderemo mai Perché ci abbiamo messo una a pigliare B Figuriamoci a pigliare A Ora Però ci posso provare La fine Tentando a nuoce O forse nuoce Perché mi ammazzano E mi incazza Però Ci provo Aiuto ragazzi Aiuto Ok c'è uno dietro Dai Codo Fammi passare qui Muori Ma ci hanno preso C Allora è tutto inutile Cioè che cazzo Gioco a fare Stanno ripigliando A Eh vabbè No mi è parita la mira Niente ragazzi Però 46 kill Se le abbiamo sparate Non è stata una brutta parita ragazzi Anzi è stata veramente una bella parita Secondo me È stata veramente una bella partita Credo che Poche volte ho fatto così tante kill Col cecchino Su code E vabbè E niente 46 16 ragazzi Spero abbiate apprezzato questa partita Vi dito come sempre Lasciate un like Un commentino E niente Un abbraccio E ci becchiamo Al prossimo Sniping in là Ciao Ciao Ciao